Ciao a tutti, io sono Salvatore Baceli e benvenuti nel mio canale YouTube, Salvatore Baceli! Oggi siamo qui a Saponara di notte, in piscina, alle 10. Lei è la mia amica Veronica, lei è la mia amica. E benvenuti qua. E siamo qua come dei deficienti, e mo ai nostri genitori ci abbiamo mentito. Che? Non è vero. No, perché stiamo facendo video che 5 minuti non siamo passati. Comunque, allora, oggi è il mio compleanno e ho invitato alcuni miei amici a festeggiarlo. E abbiamo fatto diverse cose e abbiamo scoperto che alle 10 le persone si riunivano proprio qui per rilassarsi e sedersi. Ma non possiamo entrare nell'acqua, quindi per adesso possiamo solo rilassarsi. qui e parlare così. Beh, però i nostri genitori ci hanno detto di tornare fra 5 minuti. E a quanto pare sono passati? E che fai così? Ah, sono le musica dei... Ciao ancora e di nuovo, io sono Salvatore Macieli e benvenuti nel mio canale YouTube, Salvatore Macieli. Siamo appena usciti dalla piscina. Salvatore Macieli! Speriamo di non aver fatto preoccupare i nostri genitori. Eccoci qua arrivati. Ciao papà, ciao mamma! Salutate! Non ce l'ha bisogno di fare a questo ucciso. Salutate i qua! Dov'è Aurora? Dov'è Aurora? Aurora? L'avete persa. Ah, eccola! Ok, adesso vi devo salutare. Grazie per averci seguiti. Buonanotte a tutti. Saluti e ciao! Ciao!